Signore e signori, lega parla con la serie femminile Samsung, vi danno il benvenuto alla terza giornata della Samsung di Arboleta, perché auguro un gol di divertimento, e stasera in campo, Igor Dolmanzola-Nubana. Il 18 è il libero di Bergamo per questa giornata. 1-1, 1-3 di Bergamo, 24-15, vedi il mappo 17. 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 3-15, vedi il mappo 17. Oh! Eh! 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 Eh,Americansino! Eh! 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 Ehm! Eh! 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 Bravoiani. Grande Nazione con la data di C Lapierrasconosta. Unici pauri. Buon servizio di Campo Avribis. Grazie a tutti